Grazie a questa settimana ricca di iniziative dedicate all'ambiente, alle fonti rinnovabili, all'energia sostenibile, anche le scuole, i ragazzi sono stati coinvolti. Qual è un po' l'attività a cui si sono approcciati i ragazzi delle superiori ma non solo? Dunque, naturalmente il nostro istituto, l'Istituto Tecnico Industriale Cappellini Sauro, è attivo da sempre nel territorio e a maggior ragione si è esposto in queste iniziative che riguardano sostanzialmente la Smart City della città che persegue gli obiettivi dell'Europa 2020. Naturalmente noi siamo interessati anche a aspetti tecnologici, aspetti innovativi che accompagneranno questi cambiamenti per cui ci siamo resi disponibili fin dall'inizio a dare un nostro contributo. Il contributo che siamo riusciti a dare è l'attivazione, sempre in sintonia ovviamente con il Comune, organizzati con il Comune, di due laboratori. Uno che stiamo svolgendo con le scuole medie, sostanzialmente orientato a un'analisi delle energie alternative, un'analisi di tipo tecnico, scientifico quindi dove i ragazzi delle medie con i ragazzi delle superiori sperimentano un po' le caratteristiche anche tecnologiche di queste nuove tecnologie. Poi abbiamo voluto fare un passaggio avanti un pochino più elevato, in questo caso riservato ai ragazzi delle scuole superiori, per un approccio un po' all'economia circolare, che naturalmente è un paradigma nuovo che deve accompagnare proprio queste nuove evoluzioni, in particolare la simbiosi industriale che è l'applicazione di queste nuove metodologie proprio nell'ottica dell'industria. Uno degli argomenti, l'abbiamo detto, si tratta dell'economia circolare, un laboratorio comunque importante, già di un livello sostanzioso per questi ragazzi. Com'è stata la mattinata e di che cosa avete discusso? Allora, sostanzialmente abbiamo fatto un'introduzione sull'economia circolare, nelle sue definizioni più autorevoli, quindi un'economia che è sostanzialmente autorigenerativa e che mette in circolo le risorse di un'industria a favore di cicli produttivi, magari un ciclo produttivo che riutilizza le stesse risorse al fine di poterle ottimizzare nel proprio ciclo produttivo. In particolare la simbiosi industriale è proprio uno strumento applicativo dell'economia circolare che appunto valorizza e ottimizza le risorse di un processo produttivo a favore di un altro, quindi le risorse scartate di una determinata industria vengono valorizzate e riempiegate in un altro ciclo produttivo. Un'esperienza sicuramente importante e positiva perché avete modo di interfacciarvi comunque con una realtà. Sì, è stata un'esperienza molto interessante anche perché abbiamo visto qualcosa di diverso rispetto alle semplici lezioni che facciamo normalmente a scuola. Abbiamo avuto a che fare con due esperti dell'Enea che ci hanno fatto vedere il loro modo di lavorare, comunque ci hanno messo in questo ambito che è un po' diverso rispetto a sempre quello che vediamo noi. Noi abbiamo provato anche a fare una sorta di esperienza qua in classe, cioè quello che loro fanno normalmente con gli imprenditori abbiamo provato a riprodurlo qua nel nostro piccolo, provando a vedere i risultati e come si sviluppano queste cose.